Aaaaaaah! Oddio, Castinetto, il maroporto di Castini, oddio! Ma il paese non molto vicino era qui, non aveva nulla da tenere, perché adesso c'era lui a proteggere la città. Queste sono le avventure... Super Fettino! Ma chi cos'è? È un aereo? È un uccello? No! In realtà è Super Fettino e Super Pinguino! Quindi non sanno volare! E tu chi sei? Non mi avrai mai vivo! Ti prenderò i calcini! Come hai fatto a sopravvivere? In realtà, Fettino, non ha i piedi! Prova a prendermi! Ma Fettino non poteva correre, perché come abbiamo detto prima, non ha i piedi! Sì, sì, lo sappiamo già! Ma per fortuna è Super Pinguino! No, scherzavo, non ha nemmeno le orecchie! Ma che poteri ha? Passa attraverso i muri! Si può stoppiare! Vuota super veloce! Beaseline drop! Iscriviti al canale Attenzione Tra gli effetti indesiderati Sonnolenza, dolori alle articolazioni e mal di testa Legger attentamente il fumetto informativo